Pratiche colorate e molto più utili delle bottigliette di plastica, soprattutto non inquinano. Gli studenti del liceo classico Francesco Petrarca e quelli dell'Istituto Comprensivo Statale Giorgio Vasari riceveranno ciascuno una borraccia di alluminio da utilizzare a scuola e nel tempo libero per eliminare le bottigliette di plastica. Quanta consapevolezza c'è tra voi ragazzi sulle tematiche ambientali? Sicuramente negli ultimi anni è aumentata, visti anche gli eventi che si sono succeduti nella nostra città e un po' in tutto il mondo come il Fridays for Future e quindi siamo molto contenti come scuola di prendere parte a questo movimento con varie cose come appunto quella delle borracce e siamo sicuri che andrà sempre a migliorare come situazione e a scuola c'è davvero molto sentimento per questa tematica. Oltre mille gli studenti coinvolti è quindi facile pensare al risparmio di plastica che si otterrà con questo progetto nato grazie alla collaborazione tra le due scuole e Zero Spreco. Questo è un passo, un altro piccolo passo verso il recupero di materia perché a Isempianti Zero Spreco desidera proprio orientarsi sempre di più al recupero di materia. Infatti in questo momento l'impiantistica è tutta tesa verso il processo di implementazione che vedrà mettere in rapporto 3 a 1 il recupero di materia rispetto a quella che viene considerata banalmente l'incenerimento dei rifiuti. No, non si tratta di incenerimento, si tratta di termovalorizzazione a bassissime emissioni che però sarà sempre più sussidiario, quindi in posizione secondaria rispetto a tutto quello che è il recupero di materia che è ben più importante. Faremo delle incontri con esperti, quindi dibattiti perché devono diventare anche informati su tutto quello che ruota intorno al problema dei rifiuti. Non in ultimo anche il discorso dello smaltimento sul quale ci possono essere anche opinioni molto diverse e spesso si prendono anche posizioni di un certo tipo però è bene prenderle con la consapevolezza di avere delle risposte da dare a un problema che comunque esiste. I ragazzi devono crescere con la consapevolezza che il pianeta è uno solo e noi dobbiamo difendere in tutti i modi possibili per quello che è il nostro dovere di lasciare agli altri, a chi verrà dopo di noi, un pianeta che abbia almeno le stesse caratteristiche di quello che abbiamo ereditato.